L'Istituto di Istruzione Superiore Parmenide è attualmente composto da quattro indirizzi di liceo, il liceo classico, il musicale coreotico, il linguistico e delle scienze umane. Quattro indirizzi che verranno presentati domenica 21 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 presso l'Istituto di Vallo della Lucania, grazie all'Open Day, una scuola da vivere. Il liceo classico Parmenide ha una lunga storia, nasce nel settembre del 1919 ed è la prima scuola superiore del Cilento, indissolubilmente legata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Nel 1939 poi viene aperto l'Istituto Magistrale Marconi, corso di studi alternativo al liceo classico, divenuto autonomo nel 1966 con il nome di Giovanni Verga, il quale nel settembre del 2000 diventa il liceo delle scienze umane ed accoglie una sezione del liceo linguistico, unendosi successivamente al liceo classico Parmenide. Ed è nel settembre 2013 che il liceo arricchisce e completa la sua offerta formativa con l'istituzione del liceo musicale coreutico, divenendo così l'attuale istituto di istruzione superiore Parmenide di Vallo della Lucania. Tutti gli alunni coinvolti insieme ai docenti e al dirigente scolastico Francesco Massanova auspicano che da questo speciale evento possa emergere la particolare connotazione del liceo Parmenide che con i suoi diversi indirizzi si conferma come una scuola capace di custodire i valori formativi e pedagogici di un'antichissima tradizione, guardando al contempo, all'innovazione e soprattutto all'integrazione tra le varie arti espressive.